Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, i temi economici e il caro Bollette ancora in primo piano. Oggi è tornato ad intervenire il Presidente nazionale della Confindustria Bonomi che ha dichiarato quello in corso è un terremoto economico, vedete la notizia ripresa dal sito dell'Ansa, non possiamo aspettare due mesi, il cuneo fiscale si può tagliare, ha detto il numero uno degli industriali italiani, quello che noi stiamo affrontando è un terremoto economico, appunto il governo poi deve intervenire, non possiamo aspettare l'arrivo del nuovo governo per affrontare un problema di questa dimensione che vuol dire mettere a rischio il sistema industriale italiano, mettere a rischio il reddito e l'occupazione delle famiglie. E a proposito di Confindustria, ieri a richiamare l'attenzione della politica regionale e anche la Confindustria Alto Adriatico con il Presidente Michelangelo Agrusti che ha incontrato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il servizio. La Regione e Confindustria Alto Adriatico gettano le basi per un'alleanza tra istituzioni e imprese finalizzata ad affrontare la crisi energetica. Il tema è stato discusso oggi a Pordenone in un incontro tra l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini e il Consiglio di Presidenza degli Industriali. Al centro del confronto il cario energetico che sta delineando una situazione drammatica per il manifatturiere in Italia e nel centro Europa. Con questi presupposti Confindustria ha istituito e presentato oggi una task force composta da Polo Tecnologico Pordenonese e da un gruppo di energy manager e consulenti finanziari che sono già al lavoro per mettere a punto soluzioni per affrontare l'autunno. La Regione ringrazia Confindustria Alto Adriatico per aver dimostrato per l'ennesima volta la capacità di reazione che la stessa ha nell'affrontare crisi come purtroppo l'attuale caratterizzata dal caro energia. La Regione Friuli Venezia Giulia in verità ha già messo a disposizione delle misure significative per quanto riguarda i fondi perduti e il sostegno delle micro e piccole imprese e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Ha già attivato delle nuove linee di contribuzione a fondo perduto per chi volesse investire in quelle che sono le energie rinnovabili. La Regione Friuli Venezia Giulia si farà sicuramente portavoce tramite il sottoscritto con la commissione competente, ma abbiamo la fortuna di avere il governatore che è anche presidente della commissione delle Regioni, di portare le stanze direttamente al governo. Qua c'è bisogno di un gioco di squadra importante, il momento è davvero drammatico, è davvero difficile. Penso che l'Italia è un paese che ha dimostrato durante la sua storia di essere stata capace di tirarsi sulle maniche e di rialzarsi e lo farà anche quest'anno. C'è un problema, tempo, non abbiamo più tempo. Su fronte occupazionale poi i timori per il futuro della Varsila e dei suoi lavoratori a Trieste. Non ha attraccato stamani la UHL Fusion, la nave da sabato in Rada nel Golfo Triestino, che deve caricare i 12 motori prodotti della Varsila da consegnare alla DAEV in Corea del Sud. Dunque non si è tenuto nemmeno il presidio da parte dei lavoratori dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, che era già stato organizzato in previsione. Dopo che si era diffusa la voce di un suo arrivo in banchina, ieri poi successivamente era circolata insistentemente la voce che la UHL Fusion sarebbe rimasta in Rada. Ieri dalla nave era partita una richiesta di ormeggio nel canale navigabile, definita come sosta tecnica, che era stata autorizzata, ma poi si è deciso di fare diversamente. I lavoratori della Varsila avevano appunto già organizzato il presidio sul canale navigabile, che non si è concretizzato. Parlava l'assessore regionale Bini dell'aumento dei costi dell'energia del metano, ma anche quello della legna da riscaldamento che scarseggia. Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di boschi, ma nell'immediato non possono essere una soluzione alla mancanza di materia prima. Abbiamo fatto il punto con Carlo Piemonte, presidente della cooperativa Legno Servizi. Pelletta alle stelle è difficile da trovare, legna da ardere a prezzi raddoppiati. Chi pensava di puntare sulla biomassa legnosa, in Friuli Venezia Giulia circa il 30% delle famiglie la utilizza abitualmente per il riscaldamento e la cucina, per far fronte all'aumento del costo del gas, non avrà comunque vita facile. Carlo Piemonte, presidente della cooperativa Legno Servizi. Sicuramente la situazione è complessa, data da più fattori. Il primo fra tutti è un blocco anche dell'esportazione da parte della Bosnia, Serbia e Ungheria di quello che è la legna verso l'Europa per un consumo interno. Quindi il tema della legna da ardere, così come il pellet o altre componenti, sono sempre più difficili. I prezzi si stanno aumentando per diversi fattori. Va detto che come Friuli Venezia Giulia i contatti sono costanti, continui, ma la vera sfida è come poter essere ancora più incisivi offrendo al nostro territorio materia prima importante. Nei boschi del Friuli Venezia Giulia il legno non manca, anzi, negli ultimi 50 anni la superficie boscata della nostra regione è quasi raddoppiata, ma il suo utilizzo è una corsa a ostacoli. Sicuramente si potrebbe fare di più in un'ottica di responsabilità. Tagliare i boschi, la pianificazione responsabile non vuol dire distruggere gli ecosistemi, ma vuol dire gestirli. La cosa peggiore è lasciarli abbandonati. Un bosco abbandonato porta rischi, tra cui il rischio di incendio, porta rischi fitosanitari come il bostrico. Dobbiamo tagliare di più e meglio. Si stima che vengono tagliati 300.000 metri cubi di legname rispetto a una crescita di un milione di metri cubi in questa regione di legno. Se nei nostri boschi avessimo delle infrastrutture stradali adeguate e gestite e pianificate a modo responsabile, se riuscissimo ad attivare tutti quei sistemi di filiera che guardano alle imprese boschive del territorio e alle segherie di prossimità che usano il nostro legno, sicuramente riusciremo a introdurre più materiale nelle filiere. La sfida è la proprietà dei boschi, che sia pubblica che privata. In molti casi purtroppo la proprietà privata è talmente frazionata, talmente piccola, di cui certe volte non si sa neanche dove siano gli eredi, che questo complica le cose. Intanto mancanza di materia prima, ma soprattutto il caro energia, stanno minacciando anche la filiera del legno arredo. Nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata, dice Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo. Il fermo produttivo delle aziende che producono pannelli, primo anello della catena, rischia di portare a ottobre al blackout dell'intera filiera. Ed ora siamo pronti a collegarci in esterna, proprio con la nostra Angela Caino, che sta seguendo la conferenza stampa di presentazione di Friuli Doc, la chermessa enogastronomica, che scatterà la prossima settimana in città Udine. Andiamo a capire se ci saranno anche ripercussioni, visto il caro Bolletti e il caro energia anche sull'evento. Buona giornata Angela, te la linea. Buongiorno Davide, a te e a tutti i nostri telespettatori. La presentazione di Friuli Doc è in corso, come dicevi. Al momento non ci sono notizie di ripercussioni di questo caro energia sull'organizzazione della Kermess, che inizierà l'8 settembre con l'inaugurazione ufficiale al pomeriggio, inaugurazione alla quale parteciperà anche l'Udinese Calcio con alcuni giocatori e andrà avanti per tutto il weekend, per tutto il prossimo fine settimana. Tanti eventi, tanti appuntamenti in programma per presentare ai visitatori il meglio dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, ma anche le attività artigianali del nostro territorio. Un'edizione, questa di Friuli Doc, la 28esima, che torna all'originale, diciamo così, perché dopo due anni segnati dalla pandemia non ci saranno più le limitazioni legate al Covid, quindi accesso libero all'area dei festeggiamenti, al centro città non ci saranno varchi, la somministrazione ritorna, diciamo così, alla normalità, non sarà più obbligatoria la consumazione seduti ai tavoli. Insomma, un Friuli Doc che cerca e vuole ripartire dopo due anni appunto segnati dalla pandemia, coinvolgendo tutto il territorio e tutti gli operatori della città di Udine e non solo. Una rinnovata sinergia anche con i ristoratori. Allora, andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore comunale ai grandi eventi, Maurizio Franz, che ci ha tratteggiato un po' le novità di questa edizione di Friuli Doc. Sentiamo l'intervista e poi la linea allo studio. Assessore Franz, pronti per partire per questa 28esima edizione di Friuli Doc, in programma dall'8 all'11 settembre. Quali le novità? Beh, io ritengo che ci siano tutti i presupposti per una grande edizione di Friuli Doc 2022, perché ci sono innanzitutto, dopo due edizioni che sono state caratterizzate dal Covid e quindi da forti restrizioni, quest'anno finalmente la situazione comunque, anche se naturalmente andrà attentamente monitorata, però non ci saranno tutte le limitazioni che avevano purtroppo caratterizzato le passate edizioni. E poi dopo due anni comunque complicati, diciamo c'è una grandissima volontà di ripartenza perché questo si vede dalle tantissime adesioni quest'anno, perché verranno occupate tutte le piazze e le vie principali della città di Udine e moltissime iniziative, anche negli ultimi giorni tutti volevano partecipare a Friuli Doc, proponendo delle iniziative nuove e particolarmente interessanti. Quindi non sarà soltanto una grandissima rassegna sotto profilo dell'enogastronomia e dell'artigianato, è una vetrina d'eccellenza, ma grazie alle fortissime sinergie e collaborazioni con l'Università in primis. La regione che naturalmente fa da protagonista, che quest'anno in piazza San Giacomo presenterà il suo nuovo marchio e poi tutte le realtà, soprattutto le associazioni di categoria, ma anche le vie e i borghi, perché ricordo che va avanti il nuovo formal di Friuli Doc, che prevede un'integrazione fra la manifestazione stessa e Udine sotto le stelle dove sono protagonisti gli operatori della città. Quest'anno ancora più protagonisti, perché il Comitato Difesa Osterie Friulane quest'anno presenterà oltre 20 osterie con dei menù tipici legati alle tradizioni dei prodotti nostri, ma ci sarà anche Udine Cooking, quindi 10 ristoratori della città che proporranno dei menù ad hoc e quindi un modo per valorizzare quali sono le nostre eccellenze, soprattutto guardando ai turisti, perché siamo molto soddisfatti dell'andamento turistico anche per la città di Udine, oltre che per l'intero territorio regionale, riteniamo che l'enogastronomia possa essere un veicolo vincente e poi tutti gli eventi collaterali, perché Friuli Doc è anche un palcoscenico, un palcoscenico per la presentazione delle squadre, penso solo alle squadre di basket di Udine, penso all'Udinese che quest'anno, grazie a questa collaborazione e i testimoni al Salone dei giocatori dell'Udinese per la presentazione e poi spettacoli in Piazza Libertà, in loggia del Lionello qua, che caratterizzano la manifestazione, la lingua friulana, quest'anno verrà presentato anche l'identità friulana, ossia un sodalizio fra le più importanti associazioni e che sono quindi dall'Arlef per arrivare al Ducato dei vini friulani, per parlare poi di le varie realtà associative, penso alla filologia e tutto, che presenteranno un ricco programma di eventi che caratterizzano la nostra terra, il nostro territorio, la nostra lingua, l'identità e quindi penso veramente grandi occasioni di intrattenimento e oltre che di degustazioni e poi il grande finale, perché ci sarà in Piazza Libertà quest'anno finalmente un concerto finale per chiudere la manifestazione con questo rapper Chadeh, che anche questo penso sarà un grande elemento di richiamo e di novità per la manifestazione. Torniamo invece ai temi legati alla commercio, abbiamo ascoltato le tantissime proposte per Friuli Doc, commercianti ed esercenti che, lo stiamo raccontando ormai da settimane, soffrono questa situazione legata alla caro bollette. Ebbene, ieri c'è stata l'iniziativa con le vetrine, le luci spente per un quarto d'ora e le richieste della Conf Commercio Nazionale al Governo. Per contrastare gli effetti del caro energia ed evitare il rischio chiusura delle imprese, i commercianti chiedono al Governo interventi emergenziali e strutturali. L'incremento del credito d'imposta dal 15 al 50%, la proroga della rateizzazione delle bollette almeno fino a dicembre 2022 e l'incremento fino al 90% della coperta offerta dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese anche per i finanziamenti. Altrimenti rischiano di saltare circa 120.000 imprese del terziario, assieme a 370.000 posti di lavoro. A lanciare le allarme sono Conf Commercio, Anc Cop, Anc Conad e Federa Distribuzione, in rappresentanza della quasi totalità delle imprese del commercio al dettaglio. Commercio al dettaglio, ristorazione, turismo, trasporti registrano rincari delle bollette fino a tre volte nell'ultimo anno e fino a cinque volte rispetto al 2019. Complessivamente la spesa in energia per i comparti del terziario nel 2022 ammonterà a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2021 e più del doppio rispetto al 2019. Per il settore della distribuzione, afferma il presidente di Anc Cop e Cop Italia, Marco Pedroni, dal 2019 al 2023 il costo dell'energia passa da 1,5 miliardi a quasi 6 miliardi, più del 300%. In termini di vendite l'energia pesava un punto e mezzo sulle vendite, nel 2022 2023 peserà fino a 5 punti. È tantissimo perché la grande distribuzione ha di utile medio un punto e mezzo e spero che le imprese non chiuderanno ma aumenteranno i prezzi. Ed è questo il rischio vero per i consumatori. Gli aumenti finora trattenuti dalla distribuzione finiranno nel loro carrello. La cronaca ora con la chiusura della strada regionale 465 che da Cercivento porta a Ravascretto in Carnia. Rimane chiusa ancora quest'oggi dopo la caduta dei massi avvenuta martedì a comunicarlo il consigliere comunale e il consigliere regionale Luca Boschetti. Le maestranze coadjuvate da FWG Strade stanno lavorando per cercare di garantire l'apertura dell'arteria nella serata di oggi. Purtroppo, spiega ancora Boschetti, il materiale a monte e strada da disgaggiare tanto e le condizioni meteo di mercoledì certamente non hanno aiutato. Ringrazio tutti e portate ancora un po' di pazienza. Ha concluso Boschetti. L'arteria è stata chiusa, come detto, per la caduta di questi grossi massi con l'intervento che è ripreso ieri alle 13.30 con due squadre di rocciatore e una squadra di strada per la pulizia del piano viabile. L'interruzione sta causando disagi soprattutto per chi deve andare a lavorare a Ravascretto ed è costretto a compiere una deviazione lunga più di 30 km spostandosi verso Tolmezzo e poi risalendola a Valdegano da Villa Santina e Ovaro. Sul fronte viabilità nella notte appena trascorsa è stato varato il ponte sul fiume Lemene nella carreggiata ovest dell'autostrada A4 in direzione Venezia. Si tratta di uno dei tre ponti, assieme a quello sulla roggia Versiola e sul canale Taglio che sono compresi tra le 24 opere lungo il tracciato di questi chilometri del cantiere di primo sublotto del secondo lotto al Visopoli Porto Gruaro per la terza corsia in A4. L'intervento si è compiuto in poche ore, iniziato dopo le ore 22, quando tre carrelloni da 24 assi larghi 5 metri che trasportavano le travi in acciaio del ponte, assemblate nel cantiere, hanno fatto il loro ingresso in autostrada percorrendola per circa un chilometro. Una volta raggiunta la posizione, due autogruvi del peso rispettivamente di 500 e 400 tonnellate hanno agganciato con cavi d'acciaio le travi le hanno varate sulle spalle realizzate su entrambi i lati del fiume Lemene, complessivamente l'impalcato pesa circa 280 tonnellate e formato da 5 travi della lunghezza di 48 metri l'una. L'operazione si è conclusa con successo e la circolazione è stata riaperta attorno alle 4 di stamattina con due ore di anticipo rispetto alle previsioni. Ora uno sguardo ai temi sanitari con il numero chiuso nei corsi universitari di medicina che torna a far discutere, occorre una seria programmazione, l'appello alle forze politiche arriva dal dottor Fernando Agrusti, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, maggiore sindacato del settore che conta più di 300 iscritti. Facendo eco alla posizione del settore formazione del sindacato nazionale, sottolinea Agrusti come soprattutto nella medicina generale si assiste ad una carenza di medici senza precedenti mentre pochi anni fa la situazione era all'opposto con una crescita esponenziale dei medici neolaureati che erano sospesi nel limbo del precariato. Occorre quindi una politica responsabile che predisponga un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia adeguato a quelli che saranno i fabbisogni previsti nei successivi decenni. Con l'avvio del nuovo anno scolastico partirà a Pordenone invece una nuova linea ciclobus nel quartiere Cappuccini, si incrementa in questo modo la mobilità lenta per gli studenti. Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazione Piccoli Passi e FIAB con il nuovo anno scolastico partirà una nuova linea ciclobus nel quartiere Cappuccini a Pordenone. In queste due settimane che precedono il suono della prima campanella si terranno i lavori per mettere in sicurezza il tracciato per i giovani ciclisti. Come illustrato dall'assessore all'urbanistica Cristina Amirante, si tratta di piccoli interventi all'altezza del cimitero. Sarà messa in sicurezza l'attraversamento pedonale di fronte al cimitero. In sostituzione delle attuali provvisorie isole in plastica verranno realizzate nuove isole sparti traffico in calcestruzzo con successivo riempimento in terra ed infine sul lato cimitero, separata da doppio cordolo sempre in calcestruzzo, verrà realizzato un tratto di una cinquantina di metri di pista ciclabile larga 2 metri. Durante i lavori, che indicativamente dureranno due settimane meteo permettendo, sarà sempre garantita la circolazione veicolare con la sola restrizione della careggiata. Limite 30 km orari. La nuova linea ciclobus diventa così la seconda in città dopo quella del quartiere Valle Noncello. Entrambe si affiancano a ben 15 linee di pedibus. E alla scuola Pierpaolo Pasolini di Pordenone è stata inaugurata un mare di libri, la nuova biblioteca scolastica al cui progetto hanno collaborato il Comune e la Fondazione Pordenone Legge. Torna alla campagna Amici di Pordenone Legge, la storica iniziativa Crown Funding per sostenere la vicinanza al festival e al tempo stesso prenotare il proprio posto agli appuntamenti. 530 i protagonisti, più di 300 gli eventi in programma, ai quali da venerdì fino a giovedì 8 settembre sarà possibile prenotarsi aderendo alla campagna Amici di Pordenone Legge. Da quest'anno poi per agevolare l'iscrizione e la prenotazione sarà possibile effettuare già da ora una pre-registrazione sul sito, con l'opportunità di creare in un'area riservata la lista degli incontri preferiti. Scompariranno anche i vecchi codici sostituiti dagli ingressi, che il nuovo sistema scalerà in automatico a ogni prenotazione. Intanto da domani vi è libera anche alle scuole, che potranno riservare i posti per gli incontri dedicati ai giovani lettori e lettrici. Sarà poi un vero e proprio click weekend, quello che riguarderà le giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre, quando si apriranno anche le prenotazioni libere per i posti ancora disponibili. Pordenone Legge che sta scorrendo il suo conto alla rovescia con anche le iniziative diffuse sul territorio. Il caso di San Vito al Tagliamento, due gli appuntamenti in programma. Il festival diffuso di Pordenone Legge prevede due appuntamenti a Cassavito al Tagliamento per vivere la ventitresima edizione del festival, spaziando da una sede all'altra in una sorta di nomadismo culturale. Un'occasione per vivere Pordenone Legge sul territorio e scoprire un friuli accogliente e generoso di sapori, paesaggi e tradizioni. Saranno due gli incontri in centro a San Vito al Tagliamento, che riporteranno le atmosfere di Pordenone Legge. Anche l'arredo urbano sul territorio si coordinerà al clima giallo-nero del capoluogo. Sabato 17 settembre alle 18.30 i riflettori si accenderanno al Teatro Arrigoni per l'incontro dal titolo Dallo Spreco Zero alla Dieta Mediterranea, con l'agroeconomista Andrea Segre, che in dialogo con la giornalista Marinella Chirico, ripercorrerà le tappe di una ricerca ultraventennale sui temi della prevenzione degli sprechi e dell'educazione alimentare al consumo. Domenica 18 settembre alle 18.00 la cantante Francesca Michelin farà tappa all'auditorium comunale e in dialogo con la curatrice di Pordenone Legge, Valentina Gasparet, presenterà il suo libro d'esordio dal titolo Il cuore è un organo. Ci trasferiamo ora nel Veneto orientale a Concordia Sagittaria, dove è stata accolta una richiesta di contributo per la riforestazione del Bosco delle Lame. Il Ministero della Transizione Ecologica ha accolto la proposta della città metropolitana di Venezia che riguarda il finanziamento di 1.348.699 euro per la realizzazione di 7 interventi di forestazione urbana nei comuni di Venezia, Martellago, Scorzè, Musile di Piave e Concordia Sagittaria. Come spiegato dal sindaco di Concordia Claudio Odorico, gli interventi vengono finanziati dal PNRR grazie ad un progetto confezionato in tempi stretti da un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dagli uffici della città metropolitana con il supporto dei comuni che hanno dato disponibilità delle aree. Un passo avanti per il territorio che compie a beneficio dell'ambiente e della sostenibilità. Il comune di Concordia Sagittaria vedrà l'ampiamento del Bosco delle Lame a sindacale con 5.400 piante per un importo di spesa di 232.011 euro. Le nuove aree saranno realizzate su tre appezzamenti separati per una superficie interessata complessiva di 5,40 ettari in un'area pianeggiante su terreni attualmente incolti e in vasi da vegetazione infestante, prive di vegetazione arborea in un ambito di bonifica attraversati da una fitta rete efficiente di scoline e in vicinanza a canali consortili. E apriamo proprio la pagina degli spettacoli con la mostra del cinema di Venezia. Con White Noise c'è stata un'apertura all'insegna di Netflix per la prima volta un film della società americana. Ha inaugurato la rassegna cinematografica della Laguna. Vediamo il report dopo la prima giornata. La mostra del cinema di Venezia festeggia 90 anni. L'apertura è con un film di Netflix ed è la prima volta. White Noise tratto dal romanzo di Dom De Lillo con la regia di Noah Baumbach e Adam Driver e Greta Gerwig protagonisti. Il ruolo di Netflix e degli altri streaming è quanto mai centrale. Se ne è parlato anche ieri in un panel con il nuovo CEO dell'Academy of Motion Pictures, Bill Kramer, sono ormai degli attori fondamentali, protagonisti del sistema produttivo cinematografico. Venezia da sempre ha dimostrato apertura, lungimiranza, libertà. Il fatto è che per la prima volta c'è un film di Netflix ad aprire la mostra del cinema. Comincia una lunghissima maratona di film fino al 10 di settembre con Il Leone d'Oro e sono 23 solo per quanto riguarda il concorso, di cui 5 con registi italiani. Bon Essendol di Luca Guadagnino che porterà a Lido il superdivo amato dai ragazzi Timothée Chalamet e il regista Andrea Pallaoro con Monica. Entrambi questi film girati in America, film internazionali. Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio con Luigi Locascio protagonista. Poi ancora l'immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz e Vincenzo Amato. E poi ancora Chiara di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco. Naturalmente la mostra del cinema la continueremo a seguire nei nostri notiziari anche con degli speciali che andranno in onda nei prossimi giorni anche con una puntata speciale proprio dal Lido per mostrarvi il red carpet. Ora invece torniamo alla Dacia Arena dove non sono cessati i festeggiamenti per la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Un'ottima prova dei bianconeri di Mister Sottil con Alessandro Surza. Andiamo a riavvolgere il nastro rispetto a quello che è successo ieri sera. Buongiorno. Sì, ciao Davide, buongiorno a te. Siamo proprio qui a bordo campo della Dacia Arena dove ieri l'Udinese ha battuto per 1-0 la Fiorentina trovando la prima vittoria casalinga della stagione. Ovviamente si parla di campionato perché poi quella ufficiale era già arrivata contro la Ferralbi Salò in Coppa Italia. Prima vittoria casalinga in campionato, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta venerdì scorso a Monza. Due vittorie nell'arco di 5 giorni che hanno cambiato completamente i giudizi di questo inizio di campionato di Udinese che fino a giovedì sera, venerdì pomeriggio, non era valutata benissimo con molti tifosi un po' amareggiati per il punto ottenuto con la salernità nella sconfitta di Milano anche se noi avevamo analizzato come erano state giocate quelle partite che avevano comunque fatto vedere qualcosa di buono nonostante la vittoria non fosse arrivata. Adesso arrivano anche i punti, sono 7 dopo 4 partite esattamente come l'anno scorso, poi l'anno scorso però l'Udinese che all'epoca era allenata da Gotti si fermò, questa volta non deve accadere. L'unica nota purtroppo molto negativa è l'infortunio che pare molto grave di Adam Amasina, stiamo aspettando tutti quanti di capire se ci sono novità, se ci sono sviluppi, gli esiti degli esami dovrebbero arrivare in serata quindi già tra la sera di oggi e la mattina di domani noi potremo darvi aggiornamenti per quello che sul momento è parso un brutto infortunio e speriamo davvero che non sia così e quindi che Adam Amasina possa davvero a breve tornare in gruppo. La squadra oggi si è allenata, chi ha giocato ieri ha fatto una seduta di scarico, chi non ha giocato ha fatto una sgambata contro la formazione Primavera, quindi Udinese che non si ferma e mette adesso già ovviamente nel mirino la gara contro la Roma sempre qui domenica alle 20.45. Prima di salutarti però andiamo a rivivere insieme nel servizio di Stefano Giovampietro la sintesi proprio del match di ieri, 1-0 col gol di Beto tra Udinese e Fiorentina. La quarta giornata di campionato vede di fronte l'Udinese di Andrea Sottile, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che tra le proprie fila ha Riccardo Sottile, figlio dell'allenatore bianconero che però inizia in panchina in un profondo turnover della squadra di Italiano che cambia 9-11 rispetto allo 0-0. Casalingo contro il Napoli, stessa formazione di Monza invece per l'Udinese con soltanto Biol al posto di Nuitink Biol che sarà tra i migliori in campo. Subito il grande pressing dell'Udinese che mette sempre e spesso fuori giri la difesa viola fino al pasticcio di Lorenzo Venuti che si fa sfilare il pallone a De Lofeo, appoggio facile facile per Beto che segna il suo secondo gol consecutivo in campionato, seconda maglia titolare, due gol per Beto che poi va a ringraziare De Lofeo che approfitta della dormita di Venuti che chiede un fallo che non c'è, palla a rimorchio per il portoghese che non può sbagliare a porta vuota e di sinistro anticipa il possibile intervento di Igor Udinese che la sblocca ma che non smette di fare male alla difesa della Fiorentina come in questo caso Beto che sfugge via Martinez Quarta, lo svernicia poi alla fine costretto a decentrarsi sull'arrivo di Venuti, colpisce addosso a Terracciano che comunque è molto bravo in uscita a chiudere lo specchio al portoghese che va vicino quindi alla doppietta personale. Udinese che continua il primo tempo, una sorta di monologo in aggressione alla difesa della Fiorentina, qui Lovric è molto bravo a sfuggire a Martinez Quarta e poi a calciare con il destro pallone che finisce però abbondantemente sul fondo. La risposta della Fiorentina arriva con un solo tiro in porta ma fa paura ed è la capocciata di Martinez Quarta disinnescata da un grandissimo intervento di Marco Silvestri che mantiene il risultato sul 1-0 per la formazione di Andrea Sottil che poi si difende sull'assalto finale della prima frazione della squadra viola ma perde purtroppo Adam Masina che qui si sacrifica, si immola per anticipare Cabral di testa. Subito il dolore poi l'uscita in Barella, da capire l'entità dell'infortunio del difensore ex Bologna e Watford. Udinese che però continua a spingere con De Lofeo che scambia con Pereira, bravo e coraggioso Terracciano ad uscire basso sui piedi del catalano che poteva colpire all'interno dell'area piccola. Nella ripresa continua la pressione strepitosa dell'Udinese, Udoge sradica palla a un suo avversario, serve De Lofeo che scucchiaia per Pereira, cerca il gol d'antologia, il numero 37. Ancora utilizzato largo sulla fascia destra ancora una volta con grandissimi risultati. Entra Samarzic che sradica un palone a centrocampo, serve De Lofeo che arriva un po' stanco all'appuntamento con il tiro, botta centrale facile per Terracciano che si rifugia in calcio d'angolo. Riapprezziamo il destro di De Lofeo che cerca il primo palo, tiro che esce però parecchio centrale. Sempre Samarzic poi a condurre un contropiede, siamo proprio al 94esimo, Udoge palla deviata che arriva Success che deposita in rete il gol del 2-0, esultanza interrotta però dalla bandirina alta della guardalina dopo un rapido check. Si vede la posizione di fuorigioco dell'ex Watford, quindi 2-0 che viene annullato ma la partita è praticamente finita. Può festeggiare il pubblico di Fede Bianconera, seconda vittoria consecutiva in campionato per Sottil e Udinese che sale a quota 7 punti il viatico migliore per arrivare alla Roma. Oggi tra l'altro ultimo giorno di calcio mercato e noi lo seguiremo con uno speciale che andrà in onda questa sera con la nostra redazione sportiva protagonista a partire dalle ore 21.15 in diretta. Stefano Giovampietro, Alessandro Surza, Rino Busato e Max Moras per tutte le ultimissime e gli affari dell'ultimo minuto. Sarà preceduta alle 20.45 dalla puntata di Fair Play dedicata alla guerra del gas con Francesco Pezzella. Per quanto riguarda l'informazione invece nuovo appuntamento live alle 16 e poi il Tg Serale alle 19.15. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti e spazio alle previsioni del tempo. Amici di Udinese TV ben ritrovati da Fabio D'Alio di Trebimeteo. La giornata di giovedì primo settembre sarà nel complesso soleggiata specie dal pomeriggio sulle zone di pianura del Friuli Venezia Giulia e sulle coste ma in mattinata ci sarà ancora della nuvolosità che tenderà ad insistere sui settori pianeggianti e dal pomeriggio comunque si attiveranno degli acquazzoni o temporali sparsi sulle aree montuose. Vediamo più nel dettaglio il tempo sul Friuli che sarà come dicevo inizialmente un po' nuvoloso in pianura ma con qualche schierita in più nell'arco del giorno. Nelle ore pomeridiane però si attiveranno fenomeni anche a carattere temporalesco sulla carne a tratti anche sui settori prealpini con occasionali sconfinamenti fin verso la pedemontana. Passando alla Venezia Giulia che qui la situazione vedrà un inizio giornata un po' più nuvoloso con il rischio anche per qualche goccia di pioggia ma poi la tendenza nel corso del giorno vedrà ampie schierite sui settori costieri, qualche disturbo che però sarà ancora possibile sul goriziano, i settori più interni. Ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.